Ciao ragazzi, oggi sono qua per darvi un piccolo aggiornamento, una piccola... Ehm, diciamo così... Quindi vi dico che sicuramente la serie delle recensioni cd tornerà, ma vabbè questo era previsto, però nel senso tornerà a breve, perché vi do un piccolo micro spoiler... No, non vi faccio vedere bene di cosa si tratta, comunque ho acquistato ben due nuovi cd, quindi vedrò se farli subito questo lunedì o quello dopo, o se spargerli un pochino, magari faccio uno questo lunedì e un altro dopo due settimane, così, giusto per, diciamo, andare ad allungare un po' il tempo, un po' il brodo. Insomma, quella sarà una scelta mia, a voi non vi deve interessare, sto scherzando, ovviamente, anzi, in realtà, ditemi anche voi cosa preferireste. Preferite che vi faccia questo lunedì più lunedì prossimo subito tutti e due gli album, preferite che io faccia un video, poi aspetto un pochino, faccio l'altro... Ah, oppure un'altra opzione potrebbe addirittura essere quella di non fare per il momento i video per far ripartire ufficialmente la serie per un po' di tempo, come se uscisse una nuova stagione. Come ho fatto poco tempo fa, che avevo stoppato per un po' di tempo, poi ho ordinato dopo 5 o 6 cd e ho fatto un mese di contenuti, perché facevo tutte le settimane, per 5 o 6 settimane ho continuato un mese e mezzo, quindi, con i video. Quindi potrei aspettare riprenderne altri, che sicuramente tanto ne prenderò altri, e fare un po' più di contenuti tutti di seguito. Ditemi voi come preferite, alla fine a me mi cambia il giusto. Io di norma farò in modo approssimativo, nel senso che quando mi capita faccio il video, cioè se riesco li faccio uno questo lunedì, uno che lo dopo. Se mi capita magari che dico, no, non c'ho voglia registrare il video, lo faccio più avanti, lo rimando. Lo faccio più avanti, molto semplicemente, cioè non è che ci siano grandi marchi ingegni a cui io debba ragionare, quindi avete un po' la libertà di farmi fare voi quello che volete, cioè a me mi cambia il giusto, sinceramente. Quindi ditemi un pochino cosa preferite, in caso, se per voi è uguale, io mi arrangio, cioè faccio un po' come mi esce, che vuol dire che potrebbero uscire uno dopo l'altro, cioè nel senso una settimana, uno subito dopo. Come magari il primo esce fra due settimane e quell'altro esce fra un mese, perché magari non c'ho voglia, lo rimando, chi lo sa. E niente, quindi questa è la situas, fatemi sapere, io vi do un abbraccione, un bacione, un bacione, ma soprattutto, cioè beh, lo blimits, non dimentichiamoci.